Il vicepresidente della provincia di Napoli, Ciro Alfano, e l'assessore alla cooperazione internazionale, Giovanna Del Giudice, hanno ricevuto a Palazzo Matteotti una delegazione russo-israeliana composta da Igor Nikitin, presidente di IRBN, il network russo che trasmette in oltre 100 paesi, Lia Shemtov, vicepresidente del Parlamento israeliano, e Sergei Kozlov, presidente di tutte le Camere di Commercio russe e all'estero. La delegazione era accompagnata da Carmine Zaccaria, responsabile Camera di Commercio Italia-Russia. Il vicepresidente Alfano ha dato la sua disponibilità per intensificare gli scambi commerciali, turistici e culturali tra il territorio napoletano, la Russia e le nazioni limitrofe.